Salve, sono detto che scrivo una lettera che dopo ve la spiego. Ieri mi ha fermato il Vinicio e mi ha detto, ma quando è che vede ritorno il Dante Gross e il Tor, prenderlo dalle Olimpiadi che aveva a Sochi in Russia. E ora Doria viene di ritorno insieme al Vladimir Lusuria. Quel Rechom? No, l'icona gay se dice per piacere, non sta a fare l'ignorante e il Savat. A proposito del Vladimir Lusuria, ieri o l'altro ieri ho visto, non mi ricordo ben se l'era l'Ucigliolo o se l'era l'Eiene, ieri vanno a vedere nel servizio, sapete che le ha sul telegiornale, su tutti i giornali italiani, che le sta arrestati perché ne va in giro con le bandierie della pace, dei gay e queste cose qua, le sta arrestati dalla polizia russa. E invece viene fuori a far vedere il Lucignolo che l'era tutta una balla, era un'invenzione pubblicitaria e non l'era avere niente, l'era via che feva le sue ferie, ne va a vedere le gare dell'Olimpiade. Ora ho detto, ho detto al Carletto, ha visto che l'era una balla e lui mi ha detto che se ne intende il Carletto, era di quei vecchi comunisti da una volta che veniva qui a fare le riunioni alla Villa Aegea e mi ha detto guarda che in Russia non ti vai via via scherzando, se ti fai il furbo con la polizia che è via, ti fa un culo così. Ho detto, vedete che magari è una via apposta per questo? Allora, la sempera del Vladimir Lusuria e vediamo quello che è in questi giorni qua a Arco, che è la campagna elettorale delle comunali. Allora tutti ti salutano e ti vogliono bene, pensano che ieri in piazza mi ha fermato uno e mi dice, ciao, come è stato? Ti ricordi che ero in scuola insieme? Mi ho guardato, io non ero tanto bravo in scuola, ma avrei avuto dei anni di Mistochi, ora ora mi ha fatto la prima elementare, insomma, no? Ecco, e te conta tutti la sua, pur di essere simpatici. A parte che abbiamo fatto i complimenti a tutti per quei che si mette adesso in questi periodi qua e nelle liste per le elezioni che vogliono un bel coraggio e abbiamo fatto i complimenti a tutti quanti, specialmente a quei che mette la sua faccia. Dopo, passevo col Vinicio, no? Ma ferma una putella e le dice, scusate, io sono una candidata alle elezioni comunali, avete qualcosa da suggerirmi? Perché se verrò eletta la metterò in opera. E ora mi che sono anche un bel bastardo. Ah, a me mi piacerà, signorina, no? Che nel suo programma quando la viniera è eletta, la farà magari un bel aeroporto per i Boeing 707, no? Su Alaghe. La madì sarà fatto, è una buona iniziativa per il turismo, il turismo invernale. E il Vinicio è un vestito che è più pragmatico di me, no? E il Gadit, se te me la dai, te dago il voto. Ecco. Questo è un po' quel che succede in giro per Arco al Didancoy. Te paga da Beverly, te paga da tu. Ecco. E un'altra cosa è che, ad esempio, come dice il giornale, no? Che ha cinque candidati sindaci, e quindi comincia a fare il toto sindaco, il toto assessore, il toto segretario, il presidente del Consiglio, i consiglieri. E fa tutte queste robe qua. Mi invece mi è una bella idea. Mi fago, volerei a fare, ecco perché sono io che scrivo, no? Volevo fare una previsione diversa. Mi volevo fare il toto trombato. Allora, mi volevo ciappare quel che ho scritto adesso qua, no? Capito? E metterlo in una busta, anche perché mi volevo dire un'altra cosa. Mi volevo anche un Così Mago. E il Gadit vuoi il Così Mago? No. Mi volevo un Così Mago. Quindi una certa tradizione sulle previsioni potrei averlo anche a me. Allora, adesso ho messo tutti i nomi che ho pensato di vignetta trombati e li metto dentro in questa busta qua. Vedi che sono fuori proprio come il notaio, no? Che metto su? Il bel timbro. Sigillo, sigillo con Scott che non viene fuori che quei della Busa o quei della telegarda Trentino che me la daversa. Ecco, questa qua è la Busa che mi vado adesso, la lettera che mi vado a depositare, no? La daverseremo subito dopo le elezioni. E vedem. Vignera fuori, sa, il nuovo sindaco che sarà quasi quasi l'assessore. Però sarebbe anche bello dargli una rucciadina a chi che non è stato eletto. Oppure, come disse il Carletto e il Vinicio, gli è stato trombati. Da telegarda Trentino, arrivederci. Grazie a tutti.